Un tragico incidente stradale ha coinvolto un autobus carico di studenti universitari che si è ribaltato su un'autostrada nel nord-est dell'Egitto causando la morte di 12 persone e il ferimento di altre 33. L'incidente è avvenuto lunedì 14 ottobre come confermato dal Ministero della Sanità egiziano. Il mezzo trasportava studenti dell'Università Galala di Suez diretti verso il loro dormitorio nella località di Einsachna al termine delle lezioni. L'autobus stava percorrendo la nuova autostrada di Galala ma improvvisamente uscito di strada e si è capovolto. Le autorità hanno arrestato l'autista sebbene le cause dell'incidente siano ancora in fase di accertamento. La notizia ha scosso profondamente la comunità universitaria e i familiari delle vittime che ora attendono chiarimenti sulla dinamica dell'accaduto.